Sono un bel materiale le ambivalenze per un attore, per gli interpreti, perché permettono di non recitare una cosa soltanto, ma la complessità dell'animo umano e in tantissimi, non proprio in tutti magari, ma in tantissimi personaggi di questa commedia nera ci sono, se prendiamo per esempio quello che poi alla fine viene definito il cattivo della faccenda, il personaggio di Angelo, il vicario, freddo, duro, sembra spietato, quando lo leggi dici mamma mia che persona orrenda, in realtà fino al momento in cui vede Isabella, se ne invaghisce profondamente e fortemente e non gli scatta l'idea della concussione, lui davvero fino a quel momento non fa altro che cercare di applicare la legge con severità. è chiaro che tutta va letta al netto dell'elemento favolistico che a noi fa sorridere, c'è l'idea che due ragazzi fanno l'amore e lei rimane incinta e per questo merita il taglio della testa, però è un elemento favolistico che lo assumi come il fatto che in Amletto esistono i fantasmi. una volta che ha assunto questo godi della modernità dell'opera, proprio perché racconta e poi questa secondo me è una delle armi più potenti che aveva Shakespeare al suo attivo, era quella di conoscere l'animo umano profondamente e quindi riuscire a raccontare tante contraddizioni in quest'opera che poi se non ricordo male è proprio vicina all'amleto, quindi sono gli anni in cui lui ha dato prova di maggiore maturità e di complessità, è riuscito in tutti i personaggi, non solo Angelo, ma anche il Duca, anche Isabella, anche Lucio per esempio, i primi quattro che sono forse quelli che hanno una parte un po' più estesa, ma anche Escalo, sono tutti grovi, molto corale come spettacolo, riesce a farti vedere le loro istanze, quello che portano avanti e anche quello che li spaventa e li muove e la sofferenza che… e quindi Angelo fino a quel momento è una persona corretta, una persona formalmente corretta e rivolgersi oggi a un paese che ha così sete di giustizia, di anticorruzione, è chiaro che ti tocca, metti in scena misura per misura. Oggi nel 2016 in Italia dici tutti hanno, tutti in platea in realtà, al netto del fatto che non ha fatto un peccato grave, un reato grave, ma detto questo, mandare in galera qualcuno che corrompe o evade, viene voglia di farlo tutti e questa è un'istanza precisa e legittima, dall'altra parte Isabella porta avanti invece questa istanza di perdono, del resto il Ministero una volta si chiamava grazia e giustizia. Adesso si chiamerà sempre così, ma sembra più il Ministero della giustizia che non di grazia e giustizia. Il linguaggio che lui usa è meraviglioso perché è semplice e alto nello stesso tempo, usa tutti i registri dall'endecasillabo che lui è riuscito a trasformare il blank verse shakespeariano di il pentametro giambico, quindi diecisillabe in endecasillabo, facendo di disforza, ha scritto una cosa tra l'altro bellissima che consiglio di andare a leggere nella prefazione della traduzione pubblicata e quindi rende molto leggibile la storia per noi contemporanei senza mai banalizzarla, senza mai renderla così insignificante da un punto di vista lessicale, di linguaggio. E lo dobbiamo al maestro Ronconi perché in qualche modo ha individuato in quegli anni, nel 92, ha individuato la persona giusta, la persona che conosceva anche così bene il teatro come Garboli, grande poeta anche, anche nel momento in cui traduci sei un grande poeta perché devi fronteggiare una complessità, una ricchezza che è intraducibile, quindi la puoi solo riscrivere in qualche modo, però è molto, 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 il lavoro che abbiamo fatto è molto rispettoso della traduzione con qualche taglio che si fa sempre perché oggi si sta teatro meno tempo e quindi se si può, diciamo, alleggerire qualche passaggio è bene farlo, però sono, sono, le parole, almeno per me, poi sai, ognuno, i registi, gli attori partono da suggestioni anche differenti, per me le parole sono tutto, quindi anche lo spettacolo è, perché il teatro è, poi questo teatro era scritto per questo, perché le parole evocassero i mondi, evocassero i personaggi, cioè dovevano, non avevano niente di scena, lo facevano in pieno giorno, su un palco all'aperto, quindi tutto era soltanto immaginato e quindi questo, infatti è stato difficile, se vuoi inscatolarlo, cioè inscatolarlo, non perché l'abbiamo messo in un interno, però se vedete un po' la scenografia racconta più una piccola piazzettina, ma è difficilissimo vestire le parole di Shakespeare, come dire, inquadrarle all'interno di una scenografia, perché sono più potenti, sono più potenti e il teatro di Shakespeare è fatto per parole e attori, quindi se trovi un ottimo traduttore che non solo traduce, ma che interpreta e poi che ha un senso del ritmo con gli endecasillabi che è meraviglioso e le parti in prosa invece sono sempre divertenti, un po' mai volgari, mai… anche se Shakespeare ci andava giù pesante, ecco, però lui ha trovato un'eleganza, ci sono forti, più precise allusioni, ma eleganti, diventano solo divertenti, almeno io ho questa sensazione. Il palcoscenografo, Carlo De Marino, abbiamo fatto un lavoro sul vuoto sostanzialmente, cioè sullo spogliare più possibile il palcoscenico, quindi il lavoro più difficile, perché quando lavori sul vuoto devi togliere tutto, ma non basta togliere tutto, bisogna dare una uniformità a quello che il pubblico vede, perché appunto non ci troviamo al Globe, dove il teatro era la scenografia, cioè il pubblico entrava in quello spazio meraviglioso. Qui è diverso, perché abbiamo un palco frontale rialzato e quindi viene inquadrato, l'idea è stata quella quindi di lavorare sul vuoto con piccoli elementi, di essere più filologici se vuoi possibile, dopodiché non c'è un'epoca sola, intanto perché i fratti e le suore nella nostra epoca hanno una divisa antica che viene da anni, anche dal Medioevo, nello specifico i frati arrivano da San Francesco e il caso vuole che proprio Isabella è anche una novizia delle clarisse, quindi sta per entrare in convento e chiudersi nel monastero proprio come le clarisse. In realtà non è che sono mesi in scena con dovizia di particolari, però quegli elementi, il boia, il boia che è il boia con l'ascia è un qualcosa che ovvio che non fa parte di oggi, però mescolare tutto questo con un ufficio di un tribunale moderno diventa interessante, abbiamo mescolato ambienti con suggestioni e anche gli altri personaggi un po' più piccoli che sono per esempio i ragazzi di strada sbandati, quello che il duca vorrebbe andandosene mettere a posto lasciando un uomo più severo di lui al potere a Vienna, una Vienna peraltro tra parentesi immaginaria dove Shakespeare non era mai stato e per lui era come Verona, Vienna, gli piaceva il suono, non c'è un'epoca in cui è ambientata, non c'è un'epoca precisa e quindi quello che si vede è molto più, a me viene da fare un omaggio in qualche modo a Torino dicendo che è molto più, un po' reinventato, ma un vicolo di San Salvario, una piazzetta di San Salvario dove c'è la bellezza della vita, la riqualificazione di quel bellissimo quartiere da una parte e dall'altra anche il degrado, le difficoltà che comporta, però a me è ispirato quello, io gli ho parlato, abbiamo fatto un giro per San Salvario, poi ha dovuto asciugare perché se no diventava una descrizione realistica, non andava bene. La moralità potrebbe essere individuale rispetto all'etica, forse c'è questa distinzione di cui sono certo solo al 70%, perché mi sfugge sempre qualche aspetto su questa distinzione importante, però capisco bene cosa intendiamo. La legalità è una funzione, anzi è l'ordinamento su cui si basa la convivenza dei cittadini di questa via immaginaria, così come nel mondo di oggi, le regole per fare giustizia laddove ci siano dei soprusi. Sono due cose molto difficili da fare andare d'accordo in realtà, più che etica e moralità che sembrerebbero in fondo regolamentate dalle leggi, la mancanza di etica o di moralità fa sì che le leggi ci sono, ma continuano a essere violate. Direi che però in questo testo c'è un ulteriore elemento che è quello della forza del perdono e proprio verso la fine, anche come metafora di conflitti che ci appaiono insanabili e parlo di quelli più spaventosi del mondo che conosciamo, che sembrano ormai insannabili, ormai sono stati tanti di quei morti da una parte e dall'altra, che non si potrà mai scegliere la via della pace. Invece il personaggio di Isabella, senza sapere nemmeno lei, perché in realtà non è così lucida, perché anche lei passa per una persona che ha una forte spiritualità e quindi quando chiede grazie e perdono la chiede per suo fratello e ha ragione di farlo, dà ottime motivazioni, ma poi passerà per l'inferno, perché crederà a un certo punto che il fratello invece è stato ucciso. E il duca a essere quello che va fino in fondo a vedere se c'è possibilità negli esseri umani di perdonare. Il lieto fine è dato da questo, dalla capacità di perdonare, dalla forza del perdono, che è però una sofferenza enorme, è chiaro, non è semplice per niente. Qui parliamo quasi di ordine pubblico, una metafora veramente… L'atto più grave secondo me è proprio la odiosa concussione che Angelo fa ai danni di Isabella, dicendo praticamente io posso graziare tuo fratello se tu mi dai il tuo corpo, almeno per una notte, che è una proposta oscena. Direi che entrambe usano l'argomentazione, questa è l'arma vincente di tanti, non solo di quest'opera, ma delle due protagoniste femminili, è l'arma vincente e la capacità di dialogare, che mi pare un dono meraviglioso della parte del mondo femminile, anche oggi, che è un vero peccato quando viene messa da parte perché si raggiungono ruoli di potere e ci si comporta come i maschi, perché in questo modo non vedremo mai veramente il femminino al potere, che è una cosa completamente diversa dall'avere donne di potere che governano più o meno bene, non è importante, ma hanno modi differenti. Il dialogo è… intanto Shakespeare, intanto mi vengono in mente Riccardo III, io l'ho già incontrato 9 volte, 10 volte, Riccardo III, per esempio, che è un assassino sanguinario, che non ha nessun problema a sterminare gli uomini, ha problemi quando incontra in lunghe scene dialettiche le donne che gli tengono testa e dialogano con lui. Purtroppo nella storia del teatro, siccome fino al fine del seicento, prima del settecento le donne non recitavano e comunque la maggior parte degli autori teatrali erano uomini, pochi hanno scritto personaggi femminili che non parlassero d'amore… Allora, adesso mi viene in mente Antigone, che è stata la prima forse, che portava avanti un'idea politica e se vuoi Isabella è un personaggio paragonabile ad Antigone sulla spiritualità e sull'idea… Quindi qualcosa che non ha a che fare necessariamente… Poi sì, viene abusata, poi non viene abusata lei sessualmente, la moglie legittima di… L'altro personaggio è una donna innamorata. Le donne venivano raccontate un po' come interessavano agli uomini, quindi se erano amanti, madri, mogli, prostitute, streghe, mai quello che veramente pensavano, perché interessava purtroppo molto poco. La speranza oggi è veramente che ci sia una nuova scrittura femminile, intelligente, che parla non necessariamente solo, noi dobbiamo rompere un po' di schemi mentali con cui vediamo le cose, perché pensiamo, se scrivono le donne parleranno dei problemi delle donne, no, se scrivono le donne parlano di qualunque quello che vogliono, esattamente come hanno fatto gli uomini, secondo me. E Shakespeare, io credo le amasse in modo particolare, anche se poi erano recitate, i ruoli erano bellissimi, poi erano recitati da ragazzini che a travesti facevano i ruoli femminili. Ma sono figure straordinarie entrambe. Mariana, soprattutto, alla fine è centrale perché dà quella spinta, quella molla a Isabella per perdonare il suo carnefice. Ed è un momento ogni volta molto toccante per noi che lo interpretiamo e spero che lo sia anche per il pubblico. Grazie. Grazie.